Oh, che piacere! Forse allora conosce mio figlio, Ernest Morrow, sta a Pensey. Sì, infatti, siamo nella stessa classe. Suo figlio era indiscutibilmente il più emerito bastardo che fosse mai stato a Pensey in tutta la sporca storia dell'istituto. Dopo che aveva fatto la doccia, se ne andava sempre per il corridoio, sbattendo l'asciugamano bagnato fradicio sul sedere della gente. Ecco, per la precisione, che tipo era. Oh, che bellezza! disse la signora, ma senza melensaggine. Era proprio carina e tutto quanto. Devo dire a Ernest che ci siamo incontrati, disse. Posso domandarle come si chiama, caro? Rudolf Schmidt, le dissi. Non avevo nessuna voglia di raccontarle tutta la storia della mia vita. Rudolf Schmidt era il bidello del nostro piano. Le piace, Pensey? mi domandò lei. Pensey? non è tanto male. Non è un paradiso, né niente di simile, ma vale tante altre scuole. Certi professori sono molto coscienziosi. Ernest l'adora, lo so, dissi, e per un po' mi misi a rifilarle le solite cretinate. Lui è un tipo che si adatta benissimo alle cose, davvero, voglio dire, sa il vero sistema per adattarsi. Crede? mi domandò lei. Pareva maledettamente interessata. Ernest, ma certo, dissi. Poi la guardai mentre si toglieva i guanti. Ragazzi, i brillantoni si sprecavano. Mi sono appena rotto un'unghia scendendo dal taxi, disse. Alzò gli occhi a guardarmi e sorrise un poco. Aveva un sorriso tremendamente simpatico. Davvero? La maggior parte della gente non ha quasi sorriso, o ne ha uno vomitevole. Io e suo padre delle volte siamo preoccupati per lui, disse. Delle volte abbiamo l'impressione che non sia troppo bravo a fare lega. In che senso? Beh, è un ragazzo molto sensibile. In realtà non è mai stato troppo bravo a fare lega con gli altri ragazzi. Forse prende le cose un po' troppo sul serio per la sua età. Sensibile, mi lasciò secco. Quel morro era sensibile e super giù quanto un dannato cesso. La guardai bene. Non mi pareva affatto stupida. Pareva in grado di farsi un'idea maledettamente chiara di che razza di bastardo fosse suo figlio. Ma non si può mai dire. Con una madre, intendo. Le madri sono tutte un po' matte. Ma, fatto sta che la madre del vecchio morro mi piaceva. Era una a posto. Vuole una sigaretta? Si guardò intorno. Non credo che sia uno scompartimento per fumatori, Rudolf, disse. Rudolf, mi lasciò secco. Non importa, possiamo fumare finché non cominciano a piantare grane, dissi. Lei preso una sigaretta e io gliel'accesi. Era carina mentre fumava. Aspirava e tutto quanto, ma non divorava il fumo come fanno quasi tutte le donne della sua età. Aveva fascino a strabenedire e sex appeal a strabenedire, anche se proprio volete saperlo. Mi stava guardando in modo un po' strano. Forse mi sbaglio, ma credo che le stia sanguinando il naso, caro, disse tutta un tratto. Io feci di sì con la mano e tirai fuori il fazzoletto. Mi sono beccato una palla di neve, dissi. Una di quelle ben pressate. Probabilmente le avrei anche raccontato la vera storia, ma ci sarebbe voluto troppo tempo. Mi piaceva, però. Cominciavo a essere un po' pentito di averle detto che mi chiamavo Rudolf Schmidt. Il vecchio Ernie, dissi, è uno dei ragazzi più popolari a Pensey. Lo sapeva? No, non lo sapevo. Feci di sì con la testa. In realtà ci abbiamo messo tutti un bel po' di tempo per arrivare a conoscerlo. È un tipo buffo, un tipo strano, sotto un sacco di aspetti. Capisce quel che voglio dire? Come quando l'ho visto la prima volta che ho pensato che fosse un po' snob. Ecco quello che ho pensato. Invece non lo è mica. È solo che ha una personalità originalissima e ci vuole un po' di tempo per arrivare a capirlo. La vecchia signora Moro non disse niente. Ma, ragazzi, avreste dovuto vederla. L'avevo incollata al sedile. Prendi la madre di uno e tutto quello che vuole sentire sono le lodi di quel fenomeno di suo figlio. Allora cominciai a sparare balle sul serio. Le ha raccontato delle elezioni? Le domandai. Le elezioni di classe? Lei scosse la testa. L'avevo ipnotizzata quasi. Davvero. Beh, eravamo in moltissimi a volere che il vecchio Ernie diventasse presidente della classe. Voglio dire che la scelta era unanime. Era l'unico, voglio dire, che potesse realmente cavarsela. Dissi. Accidenti. Se le sparavo grosse. Ma è stato eletto quell'altro ragazzo, Ernie Fencer. E sa perché è stato eletto Fencer? Per il puro e semplice motivo che Ernie non ha voluto che lo si designassimo. Perché è così maledettamente timido, modesto e compagnia bella. Ha rifiutato. È proprio timido, ragazzi. Lei dovrebbe fare di tutto perché cerchi di vincersi. La guardai. Non gliene aveva parlato? No, non me ne aveva parlato. Feci di sì con la testa. Questo è Ernie. Non ha voluto. È l'unico suo difetto. È troppo timido e modesto. Lei dovrebbe proprio spingerlo a cercare di lasciarsi andare un po' ogni tanto. Proprio in quel momento venne il controllore per guardare il biglietto della vecchia signora Marrow. E così potei smetterla di sparare balle. Però sono contento di averle sparate per un po'. Prendi uno come Marrow, che sta sempre a sbattere l'asciugamano sul sedere della gente, col fermo proposito di fare male a qualcuno. Non è che sono bastardi solo da ragazzi. Restano bastardi per tutta la vita. Ma dopo tutte le scemenze che le ho rifilato, scommetto che adesso la signora Amavo continuerà a immaginarselo tutto timido e modesto. Il tipo che non ha voluto farsi disegnare presidente della classe. È possibile. Non si può mai dire. Le madri non sono tanto acute in queste cose. Prenderebbe un cocktail? Le domandai. Mi era venuta la voglia di prenderne uno. Possiamo andare nella vettura Pullman, le va? Caro, lei può ordinare liquori? Mi domandò. Ma non con l'aria da padre eterno, però. Era troppo affascinante, eccetera, eccetera, per avere l'aria da padre eterno. Beh, no, non proprio. Ma di solito riesco ad averli, data la mia statura. Dissi. E ho un sacco di capelli bianchi. Girai la testa. E le feci vedere i miei capelli bianchi. L'affascinarono enormemente. Andiamo, mi faccia compagnia. Perché no? Dissi. Ma mi avrebbe fatto piacere averla con me. Credo proprio che sia meglio di no. Ma grazie lo stesso, caro. Disse. Ad ogni modo è molto probabile che la vettura Pullman sia chiusa. E tardi, sa? Aveva ragione. Mi ero completamente dimenticato dell'ora. Poi mi guardò e mi fece proprio la domanda che temevo di sentirmi fare. Ernest ha scritto che sarà a casa mercoledì, che le vacanze di Natale cominceranno mercoledì. Disse. Spero che lei non l'abbiano chiamata a casa all'improvviso perché qualche suo familiare è ammalato. Pareva sinceramente preoccupata. No, è che... Non è che stesse ficando il naso. Si vedeva. No, stanno tutti bene. Disse. Si tratta di me. Devo operarmi. Oh, quanto mi dispiace, disse. E le dispiaceva sinceramente. A me dispiacque subito di averlo detto, ma ormai era fatta. Non è niente di grave. Ho un piccolo tumore nel cervello. Oh, no. Si riportò la mano alla bocca, eccetera, eccetera. Oh, andrà benissimo, garantito. È proprio superficiale ed è molto piccolo. Possono toglierlo in un paio di minuti. Poi mi misi a leggere l'orario che avevo in tasca, tanto per smettere di dir bugie. Io quando comincio posso andare avanti per ore, se mi metto in vena e se mi sento in vena. Senza scherzi. Ore. Non parlamo molto dopo. Lei si mise a leggere il Vogue che si era portata e io per un po' guardai dal finestrino. Scese a Newark. Mi fece un sacco di auguri per l'operazione e compagnia bella. Continuava a chiamarmi Rudolf. Poi mi disse di andare a trovare Ernie durante l'estate a Gloucester, nel Massachusetts. Disse che la loro casa era proprio sulla spiaggia e che avevano il campo da tennis e compagnia bella. Ma io la ringraziai tanto. Le dissi che sarei andato nell'America del Sud con mia nonna. E questa era proprio grande, perché mia nonna troppo se mette il naso fuori di casa, tranne forse per andare a qualche dannato spettacolo diurno o che so io. Ma non andrei a trovare quel figlio di buona madre di Moro per tutto l'oro del mondo, nemmeno se fossi sull'astrico. Grazie a tutti.